benvenuti nel primo gran premio del salone nautico di genova la gara è molto semplice ci saranno due rettilinei da percorrere il primo contro le onde il secondo a favore di onda i tre capitani dovranno percorrere questo tracciato e dovranno ovviamente impiegare il minor tempo possibile ma chi sono questi capitani il primo è filippo del nostro team il nostro bot tester il secondo è il famosissimo ormai sergio david l'uomo che ha navigato per gli oceani del mondo l'ultimo ma non meno importante è gaetano socio storico del club del gomone quindi di esperienza in mare siamo certi che ne abbia veramente tanta le premesse per una gara emozionante ci sono tutte andiamo abbiamo il nostro primo concorrente gaetano al mio via partirà andrà alla boa qualche centinaio di metri di fronte a noi e tornerà indietro 3 2 1 via è partito molto aggressivo sicuramente ha azzeccato il tempo siamo a 25 secondi per adesso tanto sentiamo il motore che cavita tiene il trim bello alto si è fermato attenzione problemi 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 per gaetano allora rieccoci con la telecronaca va detto che gaetano si è ritirato perché si è staccato allo stacco di sicurezza quindi adesso è il turno di sergio vinca il migliore sempre siamo pronti 3 2 1 via è partito è partito siamo a 28 secondi adesso sta per virare ecco che va con la virata abbastanza larga e giù dritto verso di noi oh sbanda un po arriva siamo a un minuto 12 secondi sta arrivando sergio davini che sta per chiudere il suo giro velocissimo incredibile grande giro di sergio un giro quasi da formula 1 adesso per filippo non sarà facile non sarà facile cambio pilota sergio viene da noi in cabina di regia in cabina di commento sul nostro marshal credo non guardavo i nodi ma credo avere fatto almeno almeno 42 nodi da solo ho trimmato il più possibile infatti avete visto che era un po così mi sono divertito tantissimo adesso vediamo un attimino che succede adesso abbiamo filippo di nautic one il nostro cavallo di battaglia il nostro pilota il nostro bot tester deve provare a battere uno dei navigatori più esperti del mondo 3 2 1 via vincerò 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 partenza forse un po più lenta rispetto a sergio però poi va giù deciso deciso dritto verso la boa guardate come taglia al mare preso una botta attenzione avrà sicuramente influito sul suo tempo ma vediamo come va avanti ha impostato una virata più stretta rispetto a sergio ha rallentato un po strettissima un minuto e otto nove sta arrivando i tempi sono lì attenzione 1 e 15 è qui allora eccoci qua dobbiamo decretare il vincitore su questo foglietto ci sono tutti i tempi dei nostri contorrenti infatti a parte il mio che è la pole position infatti mi chiamano Charles Gaetano Spadecino esatto lui può essere un Charles McLaren che è forte ma un po' sfortunato è colpa della cataratta allora apriamo il foglietto con tempo partiamo con Filippo che ha girato in 1 29 e 42 prossimo tempo con Sergio che ha girato in 1 21 e 12 e quindi vince Sergio allora c'è da dire che guardando sempre Filippo è un po' tipo l'attività però anche lui l'anno prossimo potrà rifare da Suzuki è tutto? no non è tutto tu cosa hai lì? un caffè allo stand un caffè allo stand è buono tra l'altro come no? è buono nell'amicizia ci mandiamo un caffè allo tutti quanti eh siamo eh siamo secondo GF del Salone Nautico l'anno prossimo solo sui nostri canali e su Suzuki ciao all'anno prossimo ciao